Benvenuti alla settantesima puntata delle colonne d'Ercole, storie, aneddoti, veri miti e false leggende del mondo delle colonne sonore. Allora, chi segue il mio canale e soprattutto chi segue questa sottocategoria del mio canale, ovvero le colonne d'Ercole, dove parlo esclusivamente di colonne sonore, sa bene che io normalmente non faccio, come dire, delle recensioni. Quando le faccio sono magari di grandi classici, della storia del mondo dei colonne sonore, John Williams di Morricone, insomma, mi aveva fatto otto puntate solo su Morricone e così via, ma normalmente non le faccio di colonne sonore appena uscite, non le faccio per una ragione, come dire, che essendo io un compositore c'è un po' di incompatibilità tra figure di compositore, quella, se non voglio dire di critico, ma nel momento in cui fai una recensione comunque automaticamente ti poni come critico musicale. E il mio insegnante diceva sempre che un compositore non deve fare il critico musicale, cioè fa una cosa, un musicista può fare il compositore o il critico musicale, non le due cose insieme. Io sono sempre rimasto abbastanza fedele a questa impostazione che trovo fondamentalmente molto corretta. Ho fatto però un paio di eccezioni a questa regola che io ritengo abbastanza ferrea. Una è stata di The Queen's Gambit, che in italiano era la regina degli scacchi, di Carlos Raffaella Rivera. E oggi faccio un'altra eccezione per un altro film e soprattutto per un'altra colonna sonora, e tra un po' vi spiego perché faccio questa eccezione. Allora, partiamo dal regista Guy Ritchie, che in assoluto è uno dei miei registi preferiti, insomma, è uno di cui mi piace molto lo stile. Soprattutto quando fai film riferiti all'ambito criminale, con quel twist, con quella trama molto, spesso molto a zigogolata. Per certi versi la Tarantino, che non per niente è il mio regista preferito, insomma ci sta una ragione. Spesso con dei colpi di scena, insomma, è comunque una narrazione sempre molto interessante. Poi, come dire, parallelamente a questo c'è tutti i film della serie Sherlock Holmes, che mi piacciono, che mi piacciono, trovo belli, ben fatti. Però, come dire, non sono il Guy Ritchie che mi piace di più in assoluto. Qualche giorno fa ho guardato l'ultimo film che ho fatto, che trovate su Amazon, che è The Covenant. Non sto a raccontarvi la trama perché non è questo che ci interessa qui. Diciamo che è un film leggermente al di fuori di quelli che sono appunto i twist e la narrazione di Guy Ritchie. Però, nonostante questo, l'ho guardato, come dire, sulla fiducia, perché appunto, piacendomi il suo modo di raccontare le storie, ero sicuro che mi sarebbe piaciuto anche questo, o quantomeno ci speravo. Infatti, voglio dire che comunque il film è molto bello e vale assolutamente la visione, per cui lo consiglio assolutamente. Ma quello che mi fa fare questo video di oggi non è tanto il film in sé, perché dei bei film comunque, insomma, se ne vedono ancora, per fortuna, ancora oggi, nonostante l'inflazione, nonostante l'offerta delle piattaforme, che è smisurata, ma come non hai visto l'ultima serie, è bellissima, non lo metto in dubbio, ma, insomma, la giornata è sempre fatta di 24 ore, a meno che di lavoro non mi metta a guardare serie e film, insomma, ho anche altre cose da fare. Il film è comunque merita, assolutamente, ma vi dicevo, la ragione per cui ve ne parlo oggi non è tanto il film in sé, ma la sua colonna sonora. Allora, il compositore che ha scritto è Chris Benstead, o Christopher Benstead, in altre versioni, che è il compositore che lavora con Guy Ritchie, che ha lavorato con lui negli ultimi tre film, quindi The Wrath of a Man, The Gentleman, che mi era piaciuto tantissimo, e appunto The Commandant. Ho in primo visto The Gentleman, che mi è piaciuto tantissimo, e devo dire che la colonna sonora non mi aveva particolarmente colpito, e ovviamente, come potete immaginare, io quando vedo un film è fatale che faccia, come dire, uno screening completo della colonna sonora. Quando una colonna sonora non mi dice nulla, non me la ricordo, ma non perché non ci sia un tema particolarmente memorabile, ma perché non mi ha segnato i punti principali del film in maniera particolarmente profonda, va bene, passo oltre, e questo era stato il caso dei Gentleman. Poi ho visto The Covenant, appunto, di cui parliamo dopo, e poi per ultimo ho visto The Wrath of a Man, che era il time precedente, in cui, insomma, già c'è in nuce quello di cui parleremo oggi. Perché vi parlo di questa colonna sonora oggi, nello specifico? È perché è una bella colonna sonora, e va bene, ma insomma, ogni tanto, viva Dio, ancora qualche bella colonna sonora si ascolta. Più che altro, perché chi fa il mio lavoro lo sa bene, è che negli ultimi anni c'è un po' la tendenza da parte di registi a chiederci delle colonne sonore sempre più insipide. Spesso il registro ti chiede una musica che non dia fastidio, che non si senta troppo, quasi come se una musica in un film fosse, come dire, una necessità contrattuale che dobbiamo mettere lì perché la dobbiamo mettere, ma se se ne potesse fare a meno, ne faremmo a meno. Sì, certo, ci sono dei bellissimi film con delle colonne sonore minimal o addirittura quasi senza musica, però io sfido chiunque di voi a vedere il vostro film preferito togliendo la colonna sonora del vostro film preferito. Vedrete quello che vediamo noi compositori quando ci consegnano un film appena montato. Quindi, insomma, un film che nella maggior parte dei casi ha un ritmo molto più blando, molto più basso, è spesso molto meno interessante di quanto poi ovviamente verrà con la musica. L'altro, uno degli scopi della musica nel film è esattamente questo, di dare il ritmo e di dare il taglio, di dare spesso il sapore al film. Quindi la ragione per cui ve ne parlo, ripeto, non è tanto che è una bella colonne sonora e lo è una bella colonne sonora, ma è appunto questa tendenza che oggi i registri hanno a chiederti una musica abbastanza che non si senta, ecco. Quindi quasi raramente ormai ti chiedono un tema forte, un tema presente, un tema che abbia personalità e che possa marcare a fuoco la natura del film, ma quasi spesso ti chiedono delle cose molto vaghe, dei paddoni, li chiamiamo in gergo, no? Quindi queste tastiere che fanno questi landscape, questi paesaggi sonori, che poi insomma può essere anche uno stile interessante, se fatto bene, se fatto con intelligenti, ci sono fiori di compositori che anche con un pad sanno veramente descrivere meravigliosamente una scena. Però insomma, al netto di questo non tutti lo sanno fare e devo dire che la maggior parte delle cose che ascolto, soprattutto sulle piattaforme di streaming e soprattutto sulle serie, più che sui film, in questo genere di musica, francamente, non solo lascia il tempo che trovo, ma proprio mi rende mortale poi la visione del film. Per cui quando succede che invece si senta una bella colonna sonora su un bel film, dici, oh, allora c'è ancora speranza per l'umanità, forse possiamo ancora fare questo lavoro come si faceva, come si faceva ai tempi. Quindi come è strutturata la colonna sonora di The Covenant? È strutturata in maniera abbastanza semplice secondo quello che ormai sta diventando, se vogliamo, uno stile abbastanza personale di Chris Benstead, cioè una struttura fondamentalmente fatta quasi esclusivamente con gli archi e non sempre con un'orchestra d'archi, ma spesso con degli archi solisti, solisti non nel senso che facciano degli assoli, ma insomma a parti reali, quindi magari un violoncello, un violino, magari su una base di archi invece più spalmata. Poi oltre a questa base di archi c'è la presenza di alcuni strumenti etnici, a percussioni in particolare, qualcosa a corda, questo è particolarmente utile perché ovviamente se non film inventati in Afghanistan richiamo un po' quelle sonorità. Poi dobbiamo sempre stare molto attenti a quando noi occidentali sentiamo un qualcosa e lo percepiamo come arabbeggiante o afferente al mondo magrebino o all'Arabia Saudita o non si capisce bene, perché voglio dire, noi percepiamo una cosa, ma non è detto che poi quel riferimento musicale sia musicalmente corretto dal punto di vista dell'origine. Cioè la musica afghana non è che è identica alla musica che fanno in Marocco o alla musica che fanno in Turchia o alla musica che fanno in Arabia Saudita, sono musiche, o in Iran tanto per dire, sono musiche molto diverse perché sono basate su scale diverse. È un po' come dire, insomma facendo un paragone, come se un giapponese mettesse una tarantella, che so, in Francia, dice tanto è sempre Europa, sempre Mediterraneo, ma sì la tarantella in realtà è una roba italiana, ma mettiamola anche in Grecia o mettiamola in Turchia, alla fin fine, sempre quella è la zona geografica, quindi attenzione. Allora, il vero è che in queste operazioni non c'è mai, come dire, un intento filologico, non è che Bensted ha voluto, come dire, fare un riferimento necessariamente alla musica afghana. Un altro uso che fa Bensted in questo corno sonoro è l'uso dei glissando, cioè glissando, specifico, più che non dovesse saperlo, vuol dire passare da una nota, metti su bino, su biloncello, a un'altra nota, non passando da un dito appoggiando giù un altro, ma strisciando, strisciando il dito da una nota fino alla nota che ci interessa. Fa una sorta di o poi di Questo è un effetto che va usato con molta, molta attenzione, perché è un effetto che spesso e volentieri porta al parodistico, porta al comico e, insomma, e ovviamente, soprattutto in film drammatico, tutto possiamo permetterci, purché di essere comici o di ottenere un effetto che magari vorrebbe essere drammatico e poi alla fine risulta ridicolo. Ecco, questa cosa proprio un compositore non se la può permettere. Però, la storia della musica e in particolare anche la storia delle colonne sonore, della musica per le colonne sonore, è piena di begli esempi di glissati usati con funzione drammatica e questo funziona molto bene anche in questa colonne sonora di The Covenant. Poi, altra caratteristica che ha la musica di Benstead è una ripetizione ossessiva del tema. Ecco, più che un percorso che magari parte da una cellula melodica e poi sviluppa questa cellula a fine di diventare un gran tema come spesso fa John Williams tanto per fare un paragone, Benstead ha un linguaggio molto diverso, un linguaggio che parte già dall'esibizione del tema, dall'esposizione del tema e poi lo ripete molte volte in maniera ossessiva magari aumentando l'organico orchestrato un po' vagamente come Crescendo Rossignano se vogliamo. E questa ripetizione ossessiva del tema devo dire che soprattutto in un film girato come li gira Guy Ricci funziona molto bene. Allora, ovviamente sono andato a riascoltarmi anche le altre due colonne sonore precedenti quindi The Wrath of a Man e The Gentleman soprattutto The Gentleman perché ricordavo che non mi aveva praticamente colpito ho detto magari sono stato esattento io me lo sono riascoltata e devo dire che anche riascoltata non mi ha colpito particolarmente. Più interessante è The Wrath of a Man che per certi versi è più affine a The Covenant. Allora, il tema di The Covenant è molto semplice ed è questo qua è basato fondamentalmente su una ripetizione ossessiva di due accordi Do minore e la sua relativa maggiore B bemolle e il tema è questo qua Allora, siamo in Do minore appoggiatura della terza appoggiatura della tonica qui c'è un ritardo di sesta che non risolve va bene uguale e poi ripeto Allora la particolarità di questa colonna sonora e di come viene utilizzata appunto e la ripetizione ossessiva di questo tema con una serie di controcanti che vengono naturalmente aggiunti sopra in una maniera che funziona molto bene sul disco ma che ho dei dubbi che potrebbero funzionare altrettanto bene live per tutta una serie di sovrapposizioni e di questioni di natura tecnica che non sto raccontarvi Chris Benstead è molto esperto di come si lavora al suono non per niente ha vinto anche un Oscar è un BAFTA non tanto come compositore ma come mixing engineer quindi è uno che alla console si sa muovere molto bene sa come trattare molto bene il suono e sa come sa molto bene come ottenere ciò che è in testa e in sostanza perché vi ho parlato di questa colonna sonora ripeto è una bella colonna sonora ma la cosa che mi interessa di più è la speranza che questo tipo di musica così come era stato ai tempi quella di The Queen's Gambit possa essere un'inversione di tendenza nella musica per immagini di oggi in cui ripeto c'è sempre un po' la tendenza ad andare verso qualcosa di meno tematico di più generico e poi fondamentalmente tutto uguale perché poi è chiaro che quando si seguono determinati schemi su un genere di musica molto dilatata molto ampia e poco come dire poco caratteristica e con poca personalità poi alla fine i colonna sonora tenderanno sempre a somigliarsi un po' tutte quindi benvenga un'operazione come questa spero che la collaborazione fra Guy Ricci e Chris Benster continui e spero che continuino i registi a chiedere ai compositori una musica con personalità che aiuti il film perché questo è lo scopo fondamentalmente della musica di essere come dire affiancata al film di supportarlo quando ce ne bisogno e di accelerarlo quando ce ne bisogno di rallentarlo quando ce ne bisogno insomma la musica è il miglior partner del regista se il regista sa usare bene bene ci vediamo settimana prossima con un'altra puntata del colonne d'Ercole se vi è piaciuta la puntata iscrivetevi al canale e seguite le puntate precedenti le trovate tutte sul mio canale alla prossima